Fermo noi preparativi a Voggia per la quarta edizione di Libando, viaggiare e mangiando il tradizionale appuntamento con il festival dello street food organizzato dal comune Down insieme all'assessorato alla cultura ed altre associazioni che animerà il capoluogo Down dal 20 al 23 aprile prossimi. Saranno ben sei le piazze coinvolte, infatti tra l'altro ci saranno anche degustazioni e ci sarà spazio anche per la pizza napoletana con la presenza dei campioni mondiali di questa specialità. Ma ci saranno anche tavole rotonde in portanti, la prima, la significativa, andrà in scena il 22 aprile alle 18 a piazza Ciasai Battisti dal titolo Stappa, Mangia e Parla in cui interverranno Cristina Wauerman, chef della classe austria romana e di recente è stata messa in evidenza come premiata speciale del premio letterario nazionale Zingarelli di Cerignola in programma il prossimo 6 maggio. Saranno moltissime le attrazioni e soprattutto anche la voglia di mangiare, mettendo in evidenza come lo street food in provincia di Boggia funziona e come. Mimmo Siena, speciale News.